Signor Ministro, il tema della digitalizzazione della pubblica amministrazione è un tema centrale in questi giorni di Assemblea ANCI. Ecco, quanto sarà importante e anche sfidante lavorare su questo fronte coinvolgendo gli oltre 7.000 comuni italiani? Beh, credo che sia uno dei temi centrali della modernizzazione della pubblica amministrazione. Noi dobbiamo certamente essere connessi con il mondo che ci circonda, perché la pubblica amministrazione ha come missione quella di erogare servizi alla comunità. Il nostro obiettivo è quello di erogare servizi a cittadini e imprese e lo dobbiamo fare al meglio delle possibilità. E quindi è chiaro che la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, quindi tutte le opportunità che oggi ci offre l'innovazione tecnologica devono essere delle opportunità di crescita per noi. È una sfida importante, è una sfida che stiamo realizzando, cercando di coinvolgere tutte le nostre realtà amministrative. Abbiamo arricchito il nostro portale digitale Syllabus di molti interventi formativi che vanno proprio nella direzione di creare una cultura della digitalizzazione, a favorire un approccio concreto, pragmatico all'intelligenza artificiale. Quindi uno sforzo straordinario di formazione che rendiamo disponibile a tutte le amministrazioni perché il nostro portale è un portale che è accessibile a tutte le amministrazioni e quindi potenzialmente a tutti i dipendenti pubblici. Su questo fronte devo dire che ho osservato dei miglioramenti significativi in questi due anni. Siamo passati, vi do un dato, da un tempo medio di formazione di sei ore all'anno, che era alla fine del 2022, oggi siamo a tre giorni all'anno. E molta di questa formazione è proprio dedicata all'innovazione tecnologica. Qui allo stand abbiamo visto tanti giovani presenti qui all'ingotto Fiere di Torino. Quanto sarà importante e come sta operando anche il Ministero per rendere le pubbliche amministrazioni sempre più attrattive per i nuovi talenti? Noi dobbiamo smetterla di raccontare alla pubblica amministrazione come la raccontava Checco Zalone, il luogo del posto fisso. E noi invece dobbiamo far diventare alla pubblica amministrazione un'organizzazione, un luogo di lavoro desiderabile. Oggi le nuove generazioni non richiedono soltanto la stabilità del posto di lavoro, vogliono entrare in un'organizzazione che sia capace di valorizzarli, che significa formarli, che significa dargli opportunità di crescita, che significa premiarli per quello che performano, che significa garantire loro un equilibrio corretto tra l'impegno professionale e la vita personale. Ecco, tutti questi elementi concorrono a descrivere un'organizzazione attrattiva e quindi noi dobbiamo lavorare in quella direzione, nella consapevolezza che il mondo è cambiato e quindi, di nuovo, i giovani di oggi non sono come quelli di 20 o 30 anni fa che avevano il desiderio, l'ambizione, il sogno di entrare in un'azienda e rimanerci tutta la vita. Oggi c'è una forte propensione al cambiamento, soprattutto nelle nuove generazioni, e quindi noi dobbiamo preoccuparci di offrire alle persone che desiderano venire a lavorare con noi un luogo di lavoro dove possono effettivamente realizzare i propri sogni. Della semplificazione normativa, ne ha parlato molto anche Draghi nel suo rapporto, anche qui quanto è importante operare sempre di più per eliminare tutti quei numerosi vincoli, anche burocratici, e avvicinare sempre di più le aziende, le filiere alla pubblica amministrazione? Di semplificazione nella pubblica amministrazione si parla da 40 anni e devo dire che il risultato è che abbiamo una complessità normativa, procedurale, regolamentare che è diventata una complessità che è diventata complicazione e quindi è necessario semplificare, ma è necessario smetterla di parlare di semplificazione e farla la semplificazione. Noi abbiamo approcciato questo tema cercando di dargli un percorso non autoreferenziale, cioè realizzare la semplificazione insieme ai nostri utenti. Abbiamo lanciato un programma di lavoro già a gennaio dell'anno scorso che si chiama Facciamo Semplice l'Italia, giriamo l'Italia insieme ai nostri esperti e incontriamo le amministrazioni territoriali, regione, province e comuni, le associazioni di categoria, i rappresentanti delle imprese, i sindacati e questa attività di semplificazione amministrativa la facciamo insieme a loro e quindi chiediamo ai nostri utenti di raccontarci e di spiegarci che cosa si aspettano da noi in termini di semplificazione. Abbiamo già portato in Consiglio dei Ministri, abbiamo già approvato diversi provvedimenti legislativi di semplificazione, 200 semplificazioni che sono già realizzate nei primi due anni, 2023-2024, l'obiettivo che è tra l'altro un obiettivo contenuto nel PNRR della pubblica amministrazione è di semplificare 600 procedure entro giugno del 2026, sono confidente che sia un obiettivo raggiungibile. Un flash finale la liberiamo, siamo nelle settimane cruciali della legge di bilancio, anche qui le chiedo se si proverà ad aggiungere qualche altra cosa, se si proverà a fare qualcosina in più per aumentare anche le assunzioni nella pubblica amministrazione. Il tema delle assunzioni è un tema importante perché veniamo da un'epoca molto complicata dove con il blocco del turnover abbiamo perso tante persone. L'anno scorso e quest'anno abbiamo già inserito i 170 mila, altrettanto faremo quest'anno, quindi arriveremo alla fine del 2024 avendo assunto nel biennio, avendo inserito quasi 350 mila persone. La legge di bilancio è una legge di bilancio complessa che ha chiesto sacrifici a tutti e uno dei provvedimenti è quello del parziale taglio del turnover perché abbiamo previsto un taglio del 25% del turnover per il 2025 che non riguarda alcuni comparti critici che sono la sanità e per quel che riguarda le amministrazioni comuni con meno di 20 dipendenti. Adesso la legge di bilancio è in Parlamento, vedremo se effettivamente c'è la possibilità di ridurre ulteriormente questo taglio.